Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su come risolvere l'errore dello schermo nero su Call of Duty Warzone 2.0 ovviamente per quelli che hanno ancora questi problemi da quando è uscito il gioco quindi in questo tutorial vi spiego come risolvere al meglio questo errore aggiornando driver della scheda video sostituendo i driver obsoleti della scheda e del sistema quindi in questo caso quello che ci resta da fare in descrizione ti ho lasciato dei link che ti porterà sulla pagina per scaricare DirectX Run Team Microsoft Visual C++ e vari driver per AMD e Nvidia quindi in questo caso questo è DirectX Run Team Nvidia per quelli che hanno una scheda video Nvidia e AMD quindi in questo caso cosa fare bisogna cercare il proprio prodotto di AMD quindi cercate la vostra scheda video o il vostro processore e premete invia e cominciate a scaricare il driver e da lì in poi potete aggiornare i vecchi driver che stanno nel vostro sistema ora per quelli che hanno Nvidia come puoi vedere io ho messo le mie impostazioni quindi 1660 Super, sistema operativo Windows 11 quindi in questo caso non mi resta che premere invia e una volta scaricato e installato mi si aprirà un programma che si chiama GeForce Experience ed eccolo qua eccolo qua quindi in questo caso noi dobbiamo andare direttamente su driver fare circa aggiornamenti e vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento su Nvidia ok? Io non ho nessun aggiornamento quindi sto messo benissimo ora andiamo su Microsoft Visual C++ e cominciate a scaricare tutti questi tre driver ARM64 per 86 e per 64 i due driver ultimi driver per 86 sarebbe per il sistema operativo 32 bit e per 64 è il sistema operativo a 64 bit basta che vai sull'icona di Windows clicchi sistema e da lì in poi vedrai l'architettura del tuo sistema operativo se è a 32 o a 64 bit però a noi non ci interessa perchè noi dobbiamo scaricarli tutti ora passiamo direttamente ad Aletix Run Team scegliete la vostra lingua e cominciate a scaricare questo software e fate scarica ok una volta fatto chiudete tutto e cominciamo a installare tutti questi driver ok cominciando prima da Microsoft Visual al Plus Plus se in questo caso una volta scaricato e installato vi dirà disinstallazione o reinstallazione non riuscito vuol dire che avete già questa versione nel vostro sistema quindi fate sì su esegui come amministratore aspettiamo così il caricamento ok questo me l'ha fatto ripristinare questi altri due devo aspettare quindi sperando ok quello è già installato ok questo invece mi dice di riavviare il sistema io lo farò dopo ora non ci resta che passare a Aletix Run Team ovviamente questo programma ti dirà di scaricare anche un motore di ricerca noi dobbiamo togliere la spunta perchè è solo un motore di ricerca che non ci interessa questo è più per Microsoft DirectX siamo avanti installiamo e facciamo fine ok quindi una volta fatto potete anche cancellare questi driver perchè non vi servono più cancelliamoli tutti quindi se non dovesse andare andiamo un attimo su esegui scrivete per cento local app data per cento premete ok ovviamente io faccio sempre in questo modo per entrare nella cartella app data faccio per cento local app data per cento scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella blizzard la cancello tutta perchè non sono altro che cache quindi cose che non ci servono cose che accumula una volta che entriamo nel gioco e cominciamo a giocare poi le cose di steam vanno anche cancellate devo chiudere steam se no non mi permetterà di cancellare questi file una volta ok sia la cartella temp che steam ok è impossibile seguire quindi chiudo un attimo steam e cancello tutto ok una volta fatto se non dovesse andare tutto questo procedimento quello che ci resta da fare è fare direttamente una verifica ok una verifica del gioco quindi se hai call of duty su battle.net ti consiglio di farla sulle impostazioni che trovi vicino a installa e fai ripara e fai una riparazione del gioco per quelli che lo tengono su steam come me io lo tengo su steam e devo fare direttamente su proprietà gestisci e verifica integrità dei file quindi un attimo che vado su steam quindi un attimo che vado su steam quindi dov'è call of duty eccolo qua sulla rotellina proprietà vai sui file e verifica integrità del gioco e fai la verifica e ora una volta fatto tutto non ci resta che avviare il nostro gioco e vedere se funziona correttamente senza problemi ok poi una volta fatto mi ero dimenticato di un passaggio era il fatto di aggiornare i driver della scheda video direttamente su gestione dispositivi quindi cerca automaticamente i driver nel tuo pc vedi se hai qualche aggiornamento da fare oppure cerca direttamente i driver in windows update e vedere se devi fare un aggiornamento ok ed eccolo qua verifica disponibilità aggiornamenti e vedere se devi fare qualche aggiornamento al tuo sistema ok ora non ci resta che avviare il gioco e vedere se si avvia senza problemi e se abbiamo risolto il problema dello schermo nero ok andiamo ad avviare questo gioco ok vado su gioca vediamo un po' se questo gioco si avvia senza problemi quindi sperando che eh abbia funzionato tutto anche se il gioco lo tengo sull'M2 e nei caricamenti va pure abbastanza bene il gioco si sta avviando ed eccolo qua vabbè accettiamo ovviamente tutto perché una volta fatta tutta la verifica perché una volta cancellato alcune cose sue e una volta fatta la verifica ehm farà in modo di sostituire i vecchi file e rifarà da cavo tutto questo procedimento però non vi preoccupate non ha cancellato il vostro profilo direttamente eliminato vari file che non servivano al gioco ma riavvio un attimo ma riavvio un attimo il gioco ovviamente fa sempre aggiornamenti ok ed eccolo qua facciamo continua ed eccolo ed eccolo se è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao